Io ho lo spirito di gruppo e oggi si è visto in questa partita difficile sul cancro pieno di pioggia ma anche se molto meglio a Perona che ci ha visto vincere. Ma è la voglia anche, esatto, perché giocare a Lepi alla fine è la voglia di stare insieme, di condividere le energie, di trovare assieme il coraggio e trovare assieme il modo di vincere le paure e di vincere le sfide. E questo è lo stile con un sorriso di cui sono una Lepi. Solo l'ultima cosa, se mi permette Francesco, perché poi qui siamo qui con i ragazzi della prima squadra che sono schierati lì di fronte a noi e che sono veramente oggi più che mai bravi. Allora la prima squadra che milita in Serie A1 è soltanto la punta dell'iceberg di movimento di 400 ragazzi, 15 squadre, 4 signore con anche le ragazze della FN23, i ragazzi della Scenicera e 15 città che esistiamo dimostrando di essere uno dei più leghi bai d'Italia. E allora la prima squadra ha proprio il senso di essere un punto d'arrivo e di permettere di conoscere meglio tutta questa realtà. Una realtà che è cresciuta con due campi nuovi, con delle aziende che ci sostengono con passione, stimolandoci a far sempre meglio, a partire dal nostro mio esponso, come la FN23, ma anche tutte le altre, con un rapporto con l'università che cresce e quindi con tutto questo movimento che attraverso questi ragazzi trova espressione. E questo è il FN23 e questa è la voglia di esserci di continuare a crescere. Grazie Davide Adami, un applauso al Presidente del FN23. Grazie, grazie.